Parliamo di arte, di cultura, di storia con il progetto Remiam in attesa del collegamento. Vediamo di cosa si tratta. Creare un sistema integrato di conoscenza, monitoraggio, fruizione e valorizzazione del patrimonio storico e artistico, regionale e nazionale, attraverso un ecosistema produttivo tipico delle filiere dell'industria culturale e creativa. È l'obiettivo del progetto Remiam, rete dei musei intelligenti ad alta multimedialità sviluppato da DataBank che si è focalizzato sulla realizzazione di prodotti e servizi per qualsiasi spazio espositivo. Dall'introduzione della sensoristica IOT per il monitoraggio dei luoghi e il conteggio dei flussi turistici alla produzione filmica interattiva, dalla realtà aumentata a quella virtuale, dalla fruizione tramite web a quella mediante smartphone o tablet durante la visita del museo, dall'editoria classica a quella aumentata, dai tour a 360 gradi agli ologrammi interattivi sviluppati in 4K, come quello della sirena digitale installato negli spazi del Museo archeologico di Napoli. E do il benvenuto alla professoressa Isabella Valente, docente di Storia dell'Arte Contemporanea dell'Unina. Buongiorno prof, come stai? Buongiorno, benissimo, grazie. E voi? Tutto bene, ci diamo del tuo, è vero? Assolutamente sì. Allora, abbiamo visto in questo piccolo servizio di presentazione del progetto Remiam quanto sia importante l'arte, la cultura, la storia della nostra regione Campania, ma dell'intero paese, e quanto sia fondamentale mettere in piedi dei progetti, delle attività per far conoscere questo patrimonio ai più giovani. Sì, il nostro patrimonio deve essere divulgato a tutti, ai più giovani e ai meno giovani, perché tutti devono assolutamente conoscere il patrimonio culturale italiano, non soltanto campano, materiale e immateriale. E questo è lo scopo primario del progetto Remiam, di cui io faccio parte. Ecco, il digitale a servizio della cultura, possiamo dire così, no? Noi abbiamo visto anche la sirena digitale, le app per i smartphone e per i tablet, cioè è proprio un bel passo in avanti. È un bel passo in avanti ed è sicuramente la nuova frontiera della fruizione. Il terreno fertile delle digital humanities, dove insiste Remiam, che significa appunto rete dei musei intelligenti ad alta multimedialità, significa proprio questo. È una filiera che mette insieme ogni passaggio dalla produzione di un prototipo fino allo sviluppo di quello stesso prototipo, allo sviluppo di quel prodotto immesso sul mercato. Quindi garantisce anche una continuità, non muore, insomma, semplicemente con il caricamento, per esempio, dei dati. Abbiamo visto nelle immagini che sono scorse prima una delle applicazioni di Remiam, cioè la sirena digitale. Ecco, la sirena digitale è un prototipo che sicuramente può dare, può sviluppare tante altre iniziative, come addirittura un teatro multimediale, per esempio, un teatro digitale multimediale. Un altro dei prodotti del progetto Remiam è il portale PORBEC, portale dei beni culturali, dove storici dell'arte, studiosi, quei famosi studiosi che sono poco mediatici, diciamo, come personaggi, che sono molto invece presenti nella ricerca, anche nascosti nella ricerca, immettono prodotti per la conoscenza e la valorizzazione dei beni culturali. Quindi noi, attraverso il portale, possiamo fare delle visite vere e proprie in degli spazi virtuali alternativi agli spazi reali, ma non meno importanti, ma non meno validi per la ricerca. Quindi andiamo a vedere un museo, visitiamo una galleria d'arte, visitiamo una collezione particolare oppure una mostra temporanea che è stata e che per sua stessa definizione non è più, ma che possiamo ritrovare e rivedere. Immaginiamo se tutti i musei del mondo avessero un sistema del genere, significherebbe che un visitatore o uno studioso, quindi anche per la ricerca, per il progresso della ricerca, un visitatore in qualsiasi posto si trovi, può fare una visita di un museo in qualunque posto del mondo si trovi. E non mi sembra poco. Eh no, per niente, anzi, professoressa, ma pensando proprio ai giovani, no? Lei è una docente, quindi tutti i giorni è a contatto, no? Con i suoi studenti, storia, la cultura, la tecnologia, è quella combinazione, quella unione di fattori, di elementi che possono essere anche volano di sviluppo della nostra regione, della nostra Italia, ma anche occasione di lavoro, di crescita dei nostri giovani? Assolutamente sì. Pensiamo che, appunto, il settore delle digital humanities, quel campo in cui l'informatica, i processi multimediali crescono insieme alle discipline umanistiche, offrono tanto spazio, sono la nuova frontiera dell'industria creativa, quindi danno possibilità ai giovani di pensare a nuovi impieghi, possono crescere, nascere e crescere nuove figure professionali, soprattutto per quei corsi di studio, come per esempio le discipline umanistiche, che sono da sempre meno flessibili all'impiego. Invece, questo tipo di filiere, questo tipo di processi, apre nuovi spazi. Questo è per quanto riguarda l'applicazione nel mondo del lavoro, ma se pensiamo, per esempio, alla conoscenza, pensiamo a quello che stiamo vivendo. Ormai andiamo verso i due anni in cui viviamo una bruttissima situazione di reclusione. Pensiamo che significa, soprattutto per i giovani, poter visitare un museo, poter sentire, poter vedere uno spettacolo di qualsiasi livello, appunto, su una piattaforma, con processi multimediali molto avanzati, molto definiti e soprattutto molto innovativi. Quindi, Remiam, diciamo che le parole chiave di Remiam sono la conoscenza, la valorizzazione e l'innovazione, perché ovviamente sappiamo che la trasmissione dei saperi, oggi, non può prescindere dalla innovazione. Bisogna adeguarsi ai tempi, questa è la chiave. E poi possiamo anche dire, professoressa, che attraverso questo sistema si va ad invogliare persone che non vivono nel nostro territorio, prima vedono, se mai, virtualmente, no, in piattaforma, le nostre bellezze, e poi, perché no, organizzarsi, fare un tour e venire proprio poi a vederle da vicino, con i propri occhi, queste nostre bellezze. Assolutamente. Allora, lei pensi, noi pensiamo soltanto che quando vediamo una, che ne so, un documentario di una località lontana, quel documentario non sostituisce la nostra voglia di vederla, anzi, incentiva la nostra voglia di vederla, e così funziona anche per il patrimonio culturale. Se io sono in grado di mostrare un piccolo, anche un piccolo museo, più a margine, nel caso non conosciuto, ma che è colmo di meraviglie, come per, faccio un esempio, a Napoli, il Museo Filangeri, io sono solo in grado di attrarre nuove utenze, nuovi bacini di utenze, nuovi visitatori, invogliandoli a venire a vederlo dal vero. Quindi non si va assolutamente a sostituire, bensì diventa una nuova, un nuovo polo di attrazione. Professoressa, è stata gentilissima, importante anche attraverso la comunicazione, far presentare questi progetti così importanti, così ambiziosi, che hanno proprio un obiettivo ben preciso, valorizzare, far conoscere ai più le nostre bellezze, il nostro patrimonio, e quindi dare anche una nuova chiave di lettura all'arte e alla cultura. Grazie davvero tanto. Grazie a voi tutti.